buongiorno a tutti io sono chiara e su questo canale vi parlo dei quadri più conosciuti e a cui sono affezionata oggi vorrei parlarvi di adamo ed eva di lucas kranach il vecchio lucas kranach detto il vecchio nasce in germania nel 1472 figlio di un incisore lavora presso la bottega del padre sin da giovane età e oltre che imparare a incidere e dipingere kranach viaggia lungo le terre bagnate del danubio e arriva fino a vienna qui realizza per lo più paesaggi e ritratti e al suo rientro in germania è così apprezzato da diventare il pittore ufficiale di federico di sassonia soprannominato il saggio si stabilisce dunque a wittenberg nel 1505 e realizza opere con uno stile che man mano diviene del tutto personale le forme si allungano i corpi diventano più sottili i personaggi acquistano importanza in rapporto al paesaggio kranach ama i dettagli soprattutto legati all'abbigliamento e le pose dei suoi personaggi divengono più elaborate per farla breve eredita l'estetica dell'arte gotica ma la rielabora in un modo del tutto personale mettendola tra l'altro al servizio delle nuove idee riformiste a wittenberg infatti kranach conosce martin lutero capostipite della riforma protestante i due diventano addirittura grandi amici e kranach non solo esegue diversi ritratti di lutero ma ne sposa profondamente le idee tanto da diventare parte attiva nella creazione dell'iconografia protestante rappresenta temi cari alla riforma e diversi episodi della bibbia spesso utilizzando allegorie e metafore la tecnica di kranach è quella della pittura a olio e qui arriviamo al nostro quadro è il 1526 e l'artista dipinge adamo e deva kranach dipinge diversi adamo e deva ma questo è il mio preferito perché sono ben evidenti le personalità di entrambi i personaggi sullo sfondo c'è l'albero della conoscenza ricco di frutti da cui scende il serpente che ovviamente è girato verso eva eva da parte sua offre la mela ad adamo e lui la prende in mano eva ha lo sguardo accattivante guardiamola con attenzione a una posa seducente con il braccio alzato appeso al ramo che lo abbassa verso di sé e il resto del corpo segue un andamento curvilineo i capelli sono lunghi ondulati biondi sparsi tutti dietro la schiena non sono capelli composti anzi sembrano mossi da un vento caotico addirittura sembrano quasi elettrici adamo dal canto suo è piuttosto statico ha una postura dritta lineare e mentre con una mano prende la mela con l'altra si gratta la testa e a me questa cosa fa troppo ridere perché sembra veramente chiedersi il perché di quel gesto da parte di eva sembra che si chieda ma sarà giusto mangiare la mela che conseguenze può avere perché mi sta dando un frutto che in teoria non andrebbe mangiato ecco io da quella mano che si gratta la testa riesco a immaginare tutti questi pensieri di adamo adamo infatti non sorride a differenza di eva che invece è ammiccante vi soffermo un attimo su questa visione di eva fino a questo momento nella pittura il corpo femminile non è mai stato utilizzato come veicolo di seduzione in questa interpretazione di adamo ed eva invece vediamo una figura femminile molto sensuale e questa sensualità non è resa solo dall'espressione del viso ma anche dalla nudità il nudo prima di kranach era semplicemente descrittivo ora il corpo diventa un mezzo di espressione un veicolo che può essere portatore del bene ma anche del male come in questo caso la donna è ambigua e bella e pericolosa allo stesso tempo oggi siamo abituati a vedere il corpo femminile nudo usato come il veicolo di molteplici significati ma all'epoca non era affatto scontato qui adamo ed eva assumono pose stilizzate abbastanza convenzionali così come è convenzionale questo tralcio di vite che guarda caso cresce proprio davanti alle loro zone più intime ma rispetto alla staticità gotica c'è molto movimento tutto intorno poi vediamo tanti animali un cervo una cerva una pecora un capriolo con il suo compagno un leone un cinghiale un cavallo molti uccelli pernici cicogna irone e il tutto per rendere ancora più seducente l'ambientazione del paradiso mi fa sorridere in particolar modo il leone che in realtà sembra più un cane quasi questo perché ai quei tempi nessuno aveva a che fare con i leoni in carne e ossa in germania né con immagini che li rappresentassero ma allo stesso tempo serviva un tocco esotico per rendere questo paradiso più attraente infine una piccola curiosità sul tronco sono indicati la data dell'opera 1526 e il serpente alato che è il logo della produzione del pittore lucas granac muore a weimar nel 1553 durante la sua vita non solo si dimostra un grande artista ma anche un grande imprenditore lascia più di 400 opere e una botteca fiorente e molto ben avviata che verrà gestita dal figlio anche lui pittore granac il giovane per l'appunto è considerato il più autorevole pittore tedesco dell'epoca della riforma io vi ringrazio per avermi seguito fin qui se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati noi ci vediamo tra qualche settimana grazie a tutti